Allora, ciao a tutti e bentornati, naturalmente. Faccio questo video per ringraziarvi. Ringraziarvi perché MSM ITA, la community di Minecraft che ho creato, da pochi giorni ha superato i 1000 iscritti, siamo a 1015, ho visto adesso, quindi vi ringrazio molto. Sono contento che l'idea vi sia piaciuta, sono contento che ciascuno di voi abbia avuto piacere di parteciparvi e spero anche che sia stata e continui ad essere utile per la crescita normale del proprio canale, perché non ho la pretesa con questa community di far diventare famoso nessuno, io per primo non lo sono, però direi che è una bella comodità se si vuole far vedere a qualche persona in più il proprio video, per il solo fatto che comunque ogni volta che si pubblica un video, in questo caso 1015 persone ricevono la notifica, quindi è una cosa anche secondo me molto molto positiva. Tutto qui, un video molto molto semplice, vi auguro una buona domenica pomeriggio, visto che siamo di domenica e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!